Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è un video molto veloce, fatto così, insomma, più alla buona del solito. Sto cominciando a fare un esperimento con l'utilizzo della camomilla. Ho messo alcuni semi a bagno nella camomilla, questi due, sono tutti carciofi, stessa bustina, e questi a bagno soltanto nell'acqua. Adesso ovviamente coprirò con del terriccio e vediamo, sono curioso di vedere, e se l'utilizzo della camomilla, che è un disinfettante naturale e che è emolliente, porta vantaggi rispetto all'acqua normale in termini di tempi di germinazione. Questa è la mia prova, quindi adesso vediamo un attimino come si sviluppa e mano a mano vedremo poi quali germogliano per primi. Oltre ai carciofi ho fatto lo stesso test con la camomilla per quanto riguarda l'insalata. Qui ho messo la lattuga iceberg, ho fatto alcuni vasetti con semi bagnati in camomilla per qualche ora, anche questo, anche questo, e altri con acqua, semplice acqua. Ecco, li ho seminati tutti il 5 di febbraio, oggi è il 10, già il 9 ho cominciato a vedere i primi germogli e sono usciti quasi tutti contemporaneamente, anzi dirò di più, questo che è fatto con la camomilla è un po' più indietro rispetto agli altri. Quelli con l'acqua sono usciti praticamente tutti. Per quanto riguarda i semi di insalata ho qualche dubbio sulla reale funzionalità, sul reale vantaggio che può portare la camomilla, quindi l'insalata fa testo a sé. Adesso poi vedremo più avanti per quanto riguarda i carciofi. Abbiamo i primi germogli dei carciofi. Ora, questa vaschetta e questa vaschetta erano quelli con la camomilla, lo vedete anche qui, mentre questa era quella con l'acqua. Anche in questo caso, così come l'insalata, mi sa che la differenza in termini di tempi di germinazione è nulla, perché sia quelli con l'acqua che quelli con la camomilla sono venuti fuori nello stesso giorno, praticamente questa mattina me ne sono accorto. Continuiamo i test e ci teniamo aggiornati. Bene, termino oggi questo video, sono passati pochi giorni dall'ultimo che ho ripreso. Abbiamo i germogli di carciofi che stanno venendo su molto bene. Nello specifico abbiamo questa vaschetta qui, che ho fatto con la camomilla. Le ho seminate tutte il 5 di febbraio e molti ancora devono uscire fuori. Anche questo l'ho fatto con la camomilla e i germogli sono un pochino più avanti. Questo l'ho fatto con l'acqua e come vedete non c'è assolutamente differenza rispetto agli altri. Quindi continuerò a utilizzare la camomilla per le sue proprietà disinfettanti e leggermente emollienti. Ma di sicuro, per quello che ho visto io, sia sui carciofi che sull'insalata, la camomilla non ha effetti di anticipo di germinazione. Cioè non li fa a germinare un po' prima perché riesce ad ammorbidire la cuticola. Però male non fa e quindi continuerò a utilizzarlo anche per le prossime semi. Bene, era un video che soddisfava una certa curiosità da parte mia. Sicuramente chi è più esperto di me già lo sapeva, ma io volevo affrontarlo da solo questo discorso. Spero che vi sia stato utile. Se non l'avete mai usata la camomilla, volete iniziare a usarla, male non fa. E quindi abbiamo visto che non serve per aumentare la velocità di germinazione. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.